Due secondi con me come sempre in nipotini, adesso arriva Leonora Giorgi che fa un regalo a Gabriele, poi arriva Paolo Ciavarro e poi di nuovo Clizza, ciao! Ma sono fighissimi questi, vero? Mamma mia, aiuti mamma mia! Tutti li stai prendendo? Sì? Sì! Felice! Beh, complimenti! Bene, vi lascio così con questi due beati che si divertono alla faccia nostra, bellissimi, ciao!